Ecco qui oggi siamo nel comune di Solagna per fare un'immersione alla Grotta dei Fontanazzi. Qui ci si incammina per una strada abbastanza pendente con tutta l'attrezzatura in spalla. Oggi siamo io e Michele, sostanzialmente la parte dei Waterproof Man che si dedica alle esplorazioni in grotta. Ecco qui. Qui si può vedere una briccia fra le rocce da dove cominceremo la nostra immersione. E due. E tre. Qui il mio amico Michele ha già posizionato le bombole che lui utilizzerà in configurazione side mount, cioè non dietro la schiena ma al lato dei fianchi, mentre io sono con una classica configurazione back mount, con un bibo 12 più 12 e in configurazione Ogartian. Ecco qui la briccia presentata della grotta. Stanzialmente. Stanzialmente. Sento che il potere. Stanzialmente. Eppure questo. Stanzialmente. 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 Piña sulle anche per il nostro codromagneto. idania nesonalmente è finito. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti